buonasera a tutti benvenuti all'angolo del whisky in questa nuova puntata andiamo a trattare il corn whisky americano la scorsa settimana abbiamo trattato il barbon e abbiamo detto che iniziavamo insomma un percorso all'interno di quello che è l'american whisky oggi parliamo di corn whisky no tra i più i prodotti più particolari proprio del mondo del whisky americano c'è il corn whisky ok io devo essere sincero è qualcosa che mi ha sempre attirato ma non l'ho mai provato lo proverò per la prima volta qui insieme a voi questa sera quindi ci sarà anche una piccola degustazione ok è un prodotto tutto particolare che diversamente dal barbon come abbiamo visto proprio nella scorsa puntata ha delle regole tutte sue è un prodotto che richiama un po lo spirito dei distillatori clandestini ai tempi del proibizionismo infatti molti di questi whisky se guardate anche su internet sono confezionati o in barattoli di vetro per richiamare insomma oppure anche nelle bottiglie in ceramica tipo questo che proveremo stasera anche anche se diverso insomma da quello che era il classico moonshine distillato clandestinamente per richiamare quell'atmosfera clandestina vengono spesso imbottigliati all'interno di queste giare comunque di di ceramica oppure all'interno di barattoli adesso qui voi nella grafica vedete anche delle bottiglie che sono normali come il mellow corn che forse è uno dei dei corn whisky più famosi in assoluto che è un whisky della heaven hill distillery una delle importanti più importanti distillerie degli stati uniti oppure anche george dickel che fa un white corn whisky vedete che ce ne sono comunque diversi stasera proviamo questo plat valley che vedete anche nella nostra grafica ok per quanto riguarda le regole per poter andare ad utilizzare la dicitura corn whisky sulla bottiglia anche qui abbiamo dei vincoli raga perché comunque c'è una regolamentazione c'è un disciplinare anche negli stati uniti e la prima cosa in assoluto è che la miscela di cereali che devono essere utilizzati deve essere composta almeno dall 80 per cento quindi percentuali altissime da mais ok per quanto riguarda il fermentato viene poi distillato per un massimo di 160 proof ok quindi vi ricordate la scorsa settimana vi ho detto che 160 proof significa la metà per quanto riguarda in gradi di alcol quindi a circa l'ottanta per cento di alcol si distilla a circa l'ottanta per cento di alcol perché comunque deve rimanere devono rimanere quei sentori che richiamano comunque il mais essendo un corn whisky e per quanto riguarda il corn il corn whisky non è obbligatorio l'invecchiamento in botte è un prodotto che può essere distillato e venduto anche direttamente così ok se viene però invecchiato all'interno di una botte i barili non devono assolutamente aver subito il processo di carbonizzazione ok questo è importante i barili non devono aver subito il processo di carbonizzazione devono essere barili nuovi possono essere anche barili usati ma non devono aver subito il processo di carbonizzazione ok perché questo perché il corn whisky deve avere l'aroma del mais non deve essere troppo influenzato dal legno e come vi ho spiegato nel video diciamo sul nella live sul barbon proprio questo trattamento di carbonizzazione del legno serve per aumentare il contatto con il legno stesso della botte e per far sì che il whisky vada a prendere quelle caratteristiche ok del legno con cui ha contatto quindi qui lo vogliamo evitare l'invecchiamento è un invecchiamento generalmente molto più leggero ok se viene messo in botte anche qui come sempre per regolamento del whisky americano deve essere inserito all'interno della botte con meno di 125 proof quindi viene inserito con una gradazione alcolica massima di 62.5 gradi ok i corn whisky generalmente come vi stavo dicendo sono invecchiati per poco alcuni per sei mesi altri anche meno ma esiste comunque anche per il corn whisky la variante straight ok e qui lo abbiamo 100% straight corn whisky ok cosa significa straight abbiamo visto l'altra volta quando parlavamo di barbon significa che questo whisky ha avuto almeno due anni di invecchiamento in botte quindi se è uno straight corn whisky significa che è un corn whisky che ha fatto comunque almeno due anni di invecchiamento in botte oggi come vi ho detto abbiamo proprio uno straight corn whisky ovvero questo plat valley della distilleria mccormick fondata come c'è scritto qui in etichetta nel 1856 a weston nel missuri quindi più di 150 anni di storia di distillazione ragazzi incredibile una cosa pazzesca vi dico qualcosa su questo corn whisky che ci proviamo oggi è prodotto da una miscela di solo mais quindi ragazzi 100% mais come cereali e successivamente è distillato e invecchiato in botti di rover americano per 36 mesi quindi tre anni oltre due anni per avere la dicitura straight ok per poi essere comunque imbottigliato a una gradazione di 40 gradi viene venduto proprio in queste belle bottiglie originali in queste brocche di ceramica che ricordano proprio il proibizionismo come vi dicevo prima ed è prodotto comunque in piccoli batch quindi è una cosa quasi vicina all'artigianale ok adesso visto che comunque siamo qui andiamo a versarcelo vediamo un pochino io intanto mi prendo il mio bel bicchiere da degustazione prendo il mio mio dosatore e vado ad aggiungerne una dose all'interno del bicchiere quindi prendo questa bottiglia di ceramica vado a versare per la prima volta questo whisky già sentono un profumino molto invitante allora lo prendo e vado a mettere il nostro bicchiere intanto questa bottiglia la sposto qua così non ci dà fastidio e andiamo a prendere il nostro bicchiere raga il nostro bicchiere che lo facciamo un attimo ruotare molto piano per fare in modo che il nostro whisky va a depositarsi un po sulle pareti così l'alcol evapora e andiamo a percepire al naso il nostro whisky intanto vedo il colore che è un giallo molto chiaro logicamente non essendoci il trattamento carbonizzato della botte la carbonizzazione della botte gli scambi sono minori quindi anche l'intensità del colore del whisky è più basso comunque tre anni è un invecchiamento non troppo alto quindi il whisky non fa in tempo prendere un colore molto intenso quindi abbiamo questo giallo molto chiaro come vedete adesso passiamo all'olfatto fa sentirmi bene un po tutti gli odori allora l'olfatto ha un aroma piuttosto dolce devo essere sincero ricorda molto il mais le note di mais sono diciamo abbastanza nette è anche un po burroso come whisky si sente un po di burro e io riesco anche a percepire questo dolce questo dolce molto molto forte ragazzi si percepisce davvero bene adesso andiamo a degustarlo andiamo a degustarlo passaggio è un po abbastanza difficile perché è una cosa abbastanza particolare molto diverso dai whisky che mi sono bevuto di recente comunque è dolce decisamente dolce manca quel tono vanigliato del barbon però capito è dolce ma manca quel tono vanigliato che troviamo spesso nei barbon è leggermente oleoso come whisky note di mais anche in bocca davvero davvero domina il mais e capiamo perché si chiama corn whisky il mais si sente dappertutto e si in bocca ho percepito quel dolce che può ricordare un po il caramello può ricordare un po si il caramello direi però è in bocca un dolce molto più leggero rispetto che al naso in bocca si è un po oleoso un po burroso ha anche un certo che di mandorle mandorle in bocca per quanto riguarda il finale non è troppo lungo il finale che ci resta in bocca è un finale medio anche questo note di mais davvero forti cioè il mais domina in questo whisky davvero davvero sono sorpreso di questa cosa perché è molto particolare non avevo mai assaggiato un prodotto del genere e si resta comunque anche un po di dolcino e anche sul finale un po un po quell'amarogno della mandorla ci può stare ci può stare ragazzi resta un po in bocca questa sensazione quindi questo è il whisky di oggi questo Plated Valley è una cosa molto particolare un corn whisky se lo siamo assaggiati abbiamo scoperto un po il mondo di questo di questo prodotto che cosa è un corn whisky che magari molti di voi non ne hanno mai sentito parlare prima e quindi per oggi l'angolo del whisky termina qui ci vediamo alla prossima puntata ragazzi grazie